Finalmente è tornata la bella stagione e con essa la possibilità di preparare un'infinita moltitudine di insalate coloratissime, veloci e soprattutto leggere. E chi di noi non ha la sua insalata di pasta del cuore? Vi abbiamo già parlato di Angelico e delle sue predibatezze nate dalla coltivazione di pomodori come il ketchup mediterraneo, ma l'azienda Travaglini non è soltanto questo. Oggi vi proponiamo infatti una ricetta facile e gustosa con la loro crema di asparagi. Una salsa versatile che potreste utilizzare come condimento di un hamburger su del pane caldo con una fetta di guanciale croccante oppure, come vedremo, in sostituzione della maionese nelle vostre insalate di riso di pasta. Siamo in cucina per preparare una pasta fredda con crema di asparagi, pomodorini e limone candito. Buttiamo la nostra pasta in acqua salata all'incirca 6 minuti, anche se sulla nostra scatola ci sono schitti 10. Questo perché andremo a fare una pasta fredda, quindi levandola prima rimarrà molto al dente, ma nel tempo che si fredda riusciremo sicuramente ad avere la nostra consistenza giusta. Per il condimento prendiamo la nostra crema di asparagi, dei pomodorini semplicemente sbollentati, gli pratichiamo un'incisione a croce, li buttiamo in acqua bollente per circa 5 secondi, acqua e ghiaccio, li spegliamo e li tagliamo molto fini. Per quanto riguarda invece il limone candito, sbucciamo mezzo limone per circa 3 persone, portiamo a bollore acqua e zucchero. Una volta arrivato a bollore buttiamo le nostre scorze di limone, lasciamo fino a raffreddamento. Fatto ciò lo tagliamo molto fine e lo andiamo ad aggiungere alla nostra pasta insieme ai pomodorini e alla crema di asparagi. Aggiustiamo di olio, sale e un pizzico di pepe e poi impiattiamo. A questo piatto abbiniamo il verdicchio di natelica vigneto fogliano della cantina Bishi, le cui uve fanno una leggera maturazione in botte, donandogli la morbidezza necessaria per equilibrare e riempire la bocca.